salve care amiche ed amici qui il vostro senten chan sto ritornando a casa e buio e tardi sono tanto stanco sono stato tutto il giorno fuori di casa per questo che non ho potuto caricare nessun video ho caricato appena una battuta su google plus e spero vi sia piaciuta se non l'avete visto vedete la non ve le racconto perché così l'andate a vedere in google plus nel mio profilo senten chan poi volevo parlare questo lo dico per le due o tre persone che mi seguono volevo parlare di temi che hanno a che vedere con l'esoterico con lovecraft perché ne parla molto il mio amico scordo i nomi 33 il nome proprio tre non lo so cioè non mi viene in mente lo so quale ma quando uno c'è questi lapsus trebigiano 3 non lo so però ecco dopo caricherò dei video e vedrò dal mio tablet o computer e come si chiama e che lo saluto molto e lo ringrazio dei commentari che fa ai miei video ai miei interventi di google plus che avrete le domande da fargli magari vi faccio una video risposta perché ho visto abbastanza dei suoi video interessanti perché io da da quando ho iniziato a fare video che volevo nell'angolo letterario parlare di lovecraft della golden down di aleister crowley e queste cose qua però c'è sempre cose da fare allora poi alla fine faccio pochi video ho fatto qualche video sui libri spero che vi piacciano niente beh adesso vi saluto trebigiano non so non mi ricordo come si chiama saluto a tutte e e arrivederci grazie di seguirmi salve adesso sono ritornato a casa e niente mi sono ricordato il nostro amico che si occupa di temi e questioni esoteriche occultistiche eccetera e pietro trebissan a cui io mando un mio calo rosso e vivo saluto e poi commenterò dei libri per vedere lui che ne pensa gli mandano delle video risposte così per interloquire e che io c'ho dei libri che mi piacerebbe anche se io circa qualche tema sono scettico perché sono un razionalista agnostico quindi mi importa di più lato semantico filologico filosofico antropologico sociologico per quello letto renegenon e gli ade che non so come si pronuncia perché ero meno e l'imile zolla e tanti altri da un punto di vista da un punto di vista culturale ecco perché sono altre orazioni lista agnostico quindi vi saluto ancora tutti voi e al più presto vi prometto che farò una recensione video ciao il vostro San Ten Chan